L'emergenza Ferdinando Veneziale resta a livelli di guardia e non c'è solo al pronto soccorso a cui oramai si rivolgono tutti gli utenti della provincia di Sernia dopo il depotenziamento del servizio di urgenza Venafro e Agnone. Lo stato di allarme per la funzionalità dei reparti comincia a toccare anche i servizi di diabetologia in via di soppressione e quello di radiologia dove la carenza di personale medico e tecnico ha raggiunto livelli di guardia tanto da far predisporre la chiusura del reparto agli esterni in sostanza esami radiologici e tac solo per interni ed urgenze ma il disagio e le disfunzioni colpiscono anche lo sportello ticket e prenotazioni dove hanno cessato le loro prestazioni con laboratori della ditta esterna che fino ad oggi garantivano il servizio. Un servizio che adesso viene seguito solo da personale interno con rallentamenti e ritardi che producono ulteriori disfunzioni tant'è che spesso si entra in possesso del ticket e della prenotazione solo quando il laboratorio di analisi ha già chiuso. Insomma una situazione globale di carenze pesanti ed oggettive che toccano soprattutto reparti e servizi che dovrebbero servire ad agevolare e non appesantire i reparti e la gestione delle persone ricoverate. Il vero problema è che a causa dei tagli lineari ai servizi ospedalieri ad Agnone e Venafro e con la mancata sostituzione del personale sanitario che cessa dal servizio per limiti d'età il Ferdinando Veneziale si sta rivelando giorno dopo giorno inadeguato a reggere la richiesta di servizi medico-ospedalieri che arriva dall'intera provincia altomolisana, il tutto con pesanti ricadute anche sui cosiddetti livelli minimi di assistenza garantiti dalla Costituzione.